La prima lezione all'aeroporto di Napoli Signore e signori, sorvoliamo in questo momento la città di Napoli. Il tempo è bello e la temperatura esterna è di 21 gradi. Il comandante del volo New York-Napoli, AZ-005, augura a tutti i passeggeri un felice soggiorno. L'ufficiale della dogana controlla i documenti dei passeggeri e i loro bagagli. Un servizio di pullman assicura il collegamento con il centro della città. La stazione dei pullman si trova a destra dell'uscita principale. Il prossimo parte alle 11.30. I passeggeri scendono la scaletta dell'aereo. La voce dello speaker annuncia gli orari degli arrivi e delle partenze. I turisti della comunità europea non hanno bisogno del passaporto per viaggiare in Europa. Hanno bisogno solamente della carta d'identità. Esercizi Lição 15 No aeroporto di Nápoles, senhoras e senhores, sobrevoiamo neste instante a città di Nápoles. O tempo sta buon e a temperatura externa è di 20 e 1 graus. O comandante del voo Nova Iorque Nápoles AZ-005 Deseja a tutti i passaggiari una felicità. O oficial della alfandega controlla i documenti dei passaggiatori e dei bagaggiare. o servizio de ônibus garante a ligação com o centro da cidade a estação dos ônibus se encontra a direita da saída principal o próximo parte às 11h30 os passageiros descem a escada do avião a voz do speaker anuncia os horários das chegadas e saídas os turistas da comunidade europeia não necessitam do passaporte para viajar pela Europa apenas necessitam da carteira de identidade esercizi o speaker anuncia os horários dos arrivos e das partenças a dogana é à destra da uscita un servizio di pullman assicura il collegamento con il centro della città non ho bisogno del passaporto o la carta d'identità a che ora parte il prossimo pullman per l'aeroporto non ho bisogno del passaporto o la carta d'identità